Una mostra deve avere un'idea e comunque corrispondere alla risposta rispetto a una domanda che ci formuliamo. Questa mostra è una piacevole sorpresa per chi conosce le collezioni della Banca Monte dei Paschi di Siena, perché qui per la prima volta viene presentato un aspetto nuovo e inedito. Vengono presentati i dipinti del Novecento italiano. Un percorso in mostra che corrisponde esattamente al catalogo che uno si trova in mano per nuclei tematici che si svolgono prologicamente e che vanno dal 1910-1911 fino al 1956. La mostra si arricchisce di una componente multimediale con un sito dedicato che è mantovanovecento.it che permette di visitare la mostra anche a distanza. Una possibilità ulteriore è data ai visitatori che possono utilizzare il proprio smartphone o il tablet con l'utilizzo di un QR code per scaricare direttamente dal sito della mostra la scheda dell'opera. Grazie per la visione! Grazie per la visione!